Musica Dal nostro corrispondente nel 1960 Sormano, giro di Lombardia, al primo passaggio dal muro dopo aver superato il passo del Ghisallo Imerio Massignan è stato il primo ciclista ad averlo scalato senza mettere il piede a terra dopo aver percorso il tratto di salita alla media di 13 km orari Passo ora la parola a Paolo Ceruti per i commenti in redazione Grazie Monica Cari amici e amici, questa sera parliamo di sport e più precisamente del muro di Sormano Imerio Massignan, scalatore puro, era soprannato gamba secca per la caratteristica pedalata dovuta alla gamba più corta dell'altra L'idea per rendere più selettiva la corsa, cioè il Giro di Lombardia, era stata di Vincenzo Torriani, patron del Giro d'Italia Villegianze di Canso, ma anche manager di altre corse Il muro, allora non asfaltato, è una vera e propria mulattiera di quasi 2 km con pendenza massima del 25% e media del 17 Con i rapporti esistenti, quasi tutti i corridori sono costretti a scendere e spingere a piedi Ma non Imerio Massignan Musica 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 Grazie a tutti.